E' la notte del 6 settembre del 2011 e un Boeing 737-700 della All Nippon Airways si trova a 12.500 metri di quota a meno di un'ora di volo rimanente dall'aeroporto Ameda di Tokyo. Il volo fino a quel momento era stato del tutto regolare e mancava davvero poco all'arrivo. Ad un certo punto il 737 inizia quella che sembrava essere una normalissima virata verso sinistra. In pochi secondi però quell'apparentemente regolare manovra si trasforma in una violenta picchiata contro l'oceano con l'aereo quasi del tutto sottosopra. E in questo modo le 117 vite delle persone presenti a bordo dell'aereo dipendevano totalmente dall'abilità del primo ufficiale che nel frattempo era anche rimasto da solo in cabina. Vi assicuro che la causa dietro questa assurda situazione è qualcosa di davvero incredibile. Mi ha lasciato davvero a bocca aperta mentre facevo le ricerche per questo video. Senza ombra di dubbio la storia del volo All Nippon Airways 140 è tra le più sconvolgenti che abbia portato sul canale finora. Ma prima di proseguire come in ogni mio video ci tengo a precisare di non essere un pilota o un esperto di alcun tipo ma solo un grande appassionato d'aviazione desideroso di raccontare queste storie. Ma senza ulteriori indugi mettetevi comodi, allacciate le cinture e preparatevi all'incredibile storia del volo All Nippon Airways 140. Come annunciato dall'introduzione è il 6 settembre del 2011 e ci troviamo all'aeroporto internazionale di Naha sull'isola di Okinawa in Giappone. L'aeroporto della città di Naha, capoluogo dell'intera isola di Okinawa, è il quarto più trafficato dell'intero Giappone. Offre una fitta rete di collegamenti domestici interni al Giappone stesso e una serie di voli internazionali verso Seoul e Taipei. I 112 passeggeri del volo All Nippon Airways 140 si stanno preparando all'imbarco a bordo del Boeing 737-700 che quella sera le avrebbe portati fino all'aeroporto Aneda di Tokyo, il più grande trafficato dell'intero stato. La All Nippon Airways rappresenta attualmente la più grande compagnia aerea giapponese, anche più di Japan Airlines, la compagnia di bandiera. Includendo anche le varie suddivisioni e rami low cost come Peach ed AirDoo, il gruppo ANA può contare su una flotta di più di 280 aerei, sia Airbus che Boeing. Tra questi vi sono anche 8 Boeing 737-700, l'aereo protagonista della vicenda di oggi. La variante 700 del 737 rappresenta una versione affusolera accorciata del più noto e diffuso 737-800. Seppur non abbia riscosso il medesimo successo commerciale del suo fratello maggiore, il 737-700 rimane attualmente la seconda variante più diffusa di 737 al mondo, con oltre 1200 esemplari costruiti. In particolare, l'aereo coinvolto nella vicenda di oggi era immatricolato come Juliet Alpha 1.6 Alpha November e fu costruito e consegnato per All Nippon Airways nel gennaio del 2008. Ma adesso è arrivato il momento di conoscere più da vicino l'equipaggio della storia di oggi. Il 64enne comandante aveva alle spalle 16.518 ore di volo totali. Ora, in base al rapporto d'inchiesta sull'incidente del volo 140, il comandante aveva alle spalle solamente 64 ore di volo sul 737, anche se credo si tratti di un'imprecisione. O meglio, sono abbastanza convinto che questo numero di ore faccia riferimento solo ed esclusivamente alla variante 700. Questo poiché possiamo notare come egli acquisì il type rating sul 737 il 31 marzo del 1983, ben 14 anni prima dell'introduzione del 737-700. Sono sicuro che il comandante abbia diverse migliaia di ore di volo alle spalle sui 737, probabilmente quelli della generazione precedente, ovvero la Classic. Il 38enne primo ufficiale invece aveva accumulato 2930 ore di volo totali, di cui 197 sui 737-700. Di lui però sappiamo che dal 24 gennaio del 2007 fino all'8 maggio del 2011 era prima ufficiale sui Boeing 737-500, una variante della generazione Classic. Se vi interessa questo discorso sulle varianti e generazioni di 737, vi invito a recuperare i miei due video della serie che conosciamo gli aerei che ormai realizzai diversi mesi fa. Per questo video però voglio introdurre il discorso relativo alla differenza fra type rating e difference training. Per volare su uno specifico tipo di aereo è necessario che un pilota completi il cosiddetto type rating. Il dettagliato e tecnico corso in seguito al quale, dopo aver superato diversi esami teorici, pratico il simulatore ed aver accumulato svariate ore di volo sotto supervisione sull'aereo reale, è possibile ottenere l'abilitazione a quello specifico tipo di aereo. Il Boeing 737 però, pur essendo un unico tipo di aereo, è contraddistinto da ben 13 varianti. A loro volta queste ultime sono raggruppate in quattro generazioni, note come Original, Classic, Next Generation e Max. Un pilota avente il type rating sul 737 può volare su ciascuna di queste varianti, ma per passare da una generazione all'altra è necessario il cosiddetto difference training. Il difference training è un corso molto più breve, semplicemente rivolto a mettere appunto in evidenza le differenze fra le svariate generazioni. Spesso, per dire, non sono neanche necessari esami al simulatore o prove specifiche. Come già detto, il primo ufficiale del volo 140 aveva effettuato il suo ultimo volo sul 737-500 l'8 maggio del 2011. 23 giorni dopo, ovvero il 31 marzo, iniziò il difference training fra 500 e 700 per passare quindi alla generazione Next Generation di 737. E soli dieci giorni dopo, il 10 giugno del 2011, era già divenuto primo ufficiale di 737-700 ed aveva completato la transizione. Fidatevi che tutto questo sarà molto utile nella parte finale di questo video. Come già detto in precedenza, a bordo del volo 140 vi erano 117 persone, tra cui 112 passeggeri ed oltre due piloti, tre assistenti di cabina. Il volo dall'aeroporto di Naha fino a Tokyo Aneda dura all'incirca due ore e quella sera, intorno alle 8 e mezza, ha iniziato l'imbarco dei passeggeri sul volo 140. Alle 9 le procedure pre-volo erano terminate, vengono quindi avviati i propulsori e presto il 737 inizia il rullaggio verso la pista per il decollo. Alle 9 e 15 i motori vengono portati alla potenza necessaria e ha quindi inizio la corsa lungo la pista. In poco tempo il volo 140 raggiunge la velocità di rotazione e presto vengono ritirati carrelli e flap. L'aereo lascia alle spalle l'isola di Okinawa e si accinge a percorrere il tratto di Oceano Pacifico che lo separa dalla capitale giapponese. Raggiunge la quota di crociera prestabilita di 41.000 piedi, circa 12.500 metri, e il volo prosegue in maniera totalmente regolare. Passa circa un'ora e mezza di volo e giungiamo quindi alle 22.46. Tutto era assolutamente nella norma e in genere in fase di crociera non c'è molto da fare per i piloti se non i periodici controlli di carburante e gli occasionali contatti radio. A questo punto il comandante decide di approfittare di questa diciamo rilassata fase del volo per recarsi alla toilette. Presto quindi avvisa un assistente di volo che provvede a chiudere la tenda della sezione passeggeri come da procedura di compagnia. Il comandante quindi lascia la cabina di pilotaggio e affida il controllo dell'aereo al primo ufficiale. Circa un minuto più tardi un controllore del traffico aereo dell'area di Tokyo indica al volo 1-4-0 di proseguire in maniera diretta verso il radio faro o VOAR di Tateyama. Il primo ufficiale, che ricordo essere solo in cabina in questo momento, conferma di aver compreso l'istruzione ed inizia a riprogrammare il computer di volo. E proprio mentre si accingeva a far ciò in cabina risuona l'avvisatore acustico di richiesta d'accesso al cockpit. Questo poiché il comandante che nel frattempo era uscito dalla toilette desiderava appunto rientrare all'interno della cabina. Ne abbiamo già parlato ampiamente nella puntata dedicata al volo Germanwings 95-25. Le porte delle cabine di pilotaggio sono progettate per essere delle barriere pressoché invalicabili. Per questo motivo per entrare in cabina è necessario un codice d'accesso o comunque richiedere l'autorizzazione per sbloccare la porta. Il primo ufficiale, quindi non appena terminata la riprogrammazione della rotta, verifica tramite la telecamera di sicurezza la persona che stava tentando l'accesso alla cabina. E non appena accertatosi che quest'ultimo fosse proprio il comandante, aziona l'interruttore di sblocco della porta. Dopo averlo mantenuto in posizione di sblocco per diversi secondi però, si accorge che la porta non si stava sbloccando. Aziona quindi nuovamente il selettore, ma la porta continuava a non voler aprirsi. Nel frattempo però, senza alcun preavviso, il 737 aveva iniziato a virare verso sinistra. Inizialmente l'inclinazione non sembrava particolarmente accentuata, ma già pochi secondi dopo l'aereo si trovava inclinato di oltre 45 gradi sul fianco sinistro. La situazione degenera totalmente e in pochi attimi il 737 raggiunge e supera i 90 gradi di rollio. Il primo ufficiale cerca di recuperare l'assetto dell'aereo inclinando completamente la cloche verso destra e utilizzando il timone, ma l'aereo sembrava totalmente fuori controllo. Per un attimo sembra funzionare e l'inclinazione torna a 50 gradi, ma presto un'altra oscillazione porta l'aereo praticamente sottosopra. In questo stato il 737 accelera verso l'oceano pacifico perdendo più di 130 metri al secondo di altitudine, qualcosa di veramente assurdo. Presto il 737 supera la sua massima velocità operativa di Mach 0,8 arrivando a 0,828, oltre 1000 km orari. Finalmente però, dopo diversi secondi, il primo ufficiale sembra riacquisire nuovamente il controllo dell'aereo. Riesce gradualmente a riportare l'aereo in assetto livellato, ma sottoponendolo a più di 2,68 g di accelerazione. Anche in questo caso era stato superato il limite strutturale di 2,5 g e nel frattempo l'aereo si era stabilizzato intorno ai 35.000 piedi, circa 10.600 metri di quota. In circa 30 secondi aveva perso più di 2000 metri, qualcosa di davvero incredibile. Subito dopo riesce a sbloccare la porta e il comandante rientra in cabina. Riportato l'aereo sotto controllo, gli assistenti di volo iniziano ad assicurarsi che tutti i passeggeri stessero bene, ed effettivamente era così. Per grandissima fortuna nessuno dei 117 occupanti aveva riportato alcun tipo di danno o ferita e stavano tutti bene. Ripresisi dall'incredibile spavento e shock, i piloti decidono di proseguire verso Tokyo e intorno alle 11 e mezza il volo All Nippon Airways 140 atterra all'aeroporto Aneda. Per fortuna questa storia è finita bene, ma cosa di preciso era appena accaduto? Ed ora arriviamo alla parte più incredibile di quest'intera vicenda. Davvero potreste cercare di indovinare la causa e non ci arriverete mai per quanto è assurda? Ebbene, se siete pronti, cerchiamo di capire. Ovviamente non appena rientrato in cabina il comandante chiese al ufficiale cosa fosse appena accaduto. A questo il primo ufficiale risponde di aver sbagliato comando ed invece di azionare il selettore della chiusura della porta, aveva appena azionato il rudder trim. So bene che chi di voi conosce meglio l'aviazione è appena rimasto a bocca aperta, io stesso non potevo crederci mentre studiavo questo caso. Per tutti gli altri cerchiamo di capire meglio cos'è il rudder trim e perché ha causato questa situazione. Innanzitutto rudder significa timone e il timone rappresenta quella superficie di controllo del piano verticale di coda tramite il quale è possibile controllare l'imbardata dell'aereo. I piloti possono controllare il timone tramite l'apposita pedaliera, ma è anche possibile modificare la posizione neutrale del timone stesso tramite appunto il rudder trim. Normalmente il timone è perfettamente equilibrato e non appena lasciati i pedali quest'ultimo tornerà nella sua posizione neutrale. Tramite il rudder trim è quindi possibile modificare questa posizione di un tot di gradi verso destra o verso sinistra. Questo in verità negli aerei di linea rappresenta un comando che si usa molto poco, ma nel caso di perdita di propulsione da parte di un motore acquisisce un ruolo a dir poco fondamentale. Aiuta infatti a tenere l'aereo equilibrato compensando la simmetria di potenza che viene generata. Se non ci fosse il pilota dovrebbe costantemente esercitare pressione sulla pedaliera per mantenere l'aereo in equilibrio. Ora, ovviamente la domanda che sorge spontanea è come ha fatto il primo ufficiale a confondere questo selettore con quello di chiusura della porta di cabina. Sintetizzando al meglio, le risposte a questo quesito sono principalmente due. In primo luogo vediamo come vengono azionati e come si comportano questi selettori. Per modificare il rudder trim si aziona questa manopola circolare dal diametro di circa 5 cm. I piloti possono azionare questa manopola verso destra o verso sinistra e mantenerla in questa posizione fin quando non si raggiunge la gradazione di rudder trim desiderata. Nel momento in cui verrà rilasciata questa manopola tornerà automaticamente nella sua posizione neutrale. Andiamo adesso a vedere il selettore della chiusura della porta di cabina. Per aprire la porta questo selettore deve essere ruotato verso sinistra sulla posizione di sblocco e mantenuto in questo modo. Il pilota lo manterrà in questa posizione fin quando non sentirà il suono meccanico di sblocco della serratura e mollando la presa questo selettore tornerà automaticamente nella sua posizione neutrale. Avrete quindi capito che entrambi i selettori hanno pressoché lo stesso identico meccanismo di funzionamento. La seconda e più importante motivazione che ha indotto in errore il primo ufficiale è legata al posizionamento di questi due selettori. Anzi per la precisione al differente posizionamento che questi due selettori hanno acquisito sul Boeing 737-700 rispetto al 500. Sul 737-700 il selettore del rudder trim si trova essenzialmente nella parte centrale del pannello inferiore mentre l'interruttore di sblocco della porta è situato in basso a sinistra. Questo invece era il posizionamento dei due selettori sul 737-500 il modello di 737 precedente con l'interruttore di chiusura della porta situato al di sopra del rudder trim. Potete quindi notare che la loro posizione è stata essenzialmente invertita almeno dal punto di vista verticale. Sicuramente il primo ufficiale aveva ancora l'immagine mentale del pannello del 737-500 e quindi inconsciamente ha selezionato il selettore che si trovava più in alto. Inoltre voglio comunque specificare che la posizione di ognuno di questi pannelli non è sempre uguale su tutti i 737. A volte per esigenza delle stesse compagnie, per scelta di componentistica diversa o per retrofit di aerei più vecchi. Ad esempio le attuali porte di cabine di pilotaggio sono state installate retroattivamente sugli aerei più vecchi del 2001. Per questo motivo la posizione dell'interruttore potrebbe variare da aereo a aereo o anzi appunto da operatore sta di fatto che All Nippon Airways in seguito all'episodio del volo 1-4-0 cambiò e migliorò sensibilmente i corsi di difference training fra 737 Classic e Next Generation. Inoltre vennero potenziati i corsi di Upset Prevention and Recovery Training, ovvero i corsi di prevenzione e recupero da 7 anomali. Per quanto riguarda l'aereo coinvolto nel volo 1-4-0 è presto tornato in servizio, d'altronde non aveva subito alcun tipo di danno. Nel 2015 passò in gestione alla AirDoo, la suddivisione regionale di All Nippon Airways avente sede nell'Hokkaido per la quale vola ancora tuttora. Questo è tutto quel che ho da dire sul volo All Nippon Airways 1-4-0. Ve l'avevo detto che sarebbe stata una storia davvero assurda e nonostante comunque per fortuna non abbia avuto alcun tipo di esito negativo per le persone coinvolte è stato comunque un episodio molto molto grave. Lo dico spesso e continuerò a ripetermi, non sono necessarie vittime feriti per avviare indagini su episodi legati all'aviazione. Da episodi ed errori del genere è possibile imparare moltissimo e soprattutto prevenire eventuali tragedie. Spero che questo video vi sia piaciuto, nel caso mettete mi piace, iscrivetevi al canale e soprattutto attivate la campanella delle notifiche per rimanere sempre aggiornati su tutto ciò che pubblico. Noi ci rivediamo al prossimo video.